e proprio in questo momento arriva il vantaggio della Bologna con Musa Barro il minuto è il ventiduesimo, il cross dalla sinistra Musa Barro sbuca alle spalle della difesa friulana e sul primo palo batte Silvestri Udinese 0, Bologna 1, minuto 22, linea Genova Altro giro flash per ricordare soltanto minuto e punteggio, Empoli D'accordo, trentasettesimo Castellani Attenzione, interviene Udine perché c'è il pareggio dell'Udinese con Beto il minuto è l'ottantaduesimo, Udinese 1, Bologna 1, a te Scaramuzzino è il momento del pareggio dell'Udinese all'ottantatresimo l'Udinese riesce a pareggiare i conti nonostante l'uomo in meno perché lo ricordiamo è stato espulso per era nel corso del primo tempo c'è stato un pallone che si è impennato all'altezza del limite dell'area piccola di rigore è stato più bravo di tutti Beto a saltare più in alto di tutti ad anticipare il portiere Skorupski e a batterlo mettendo dentro il pallone per il gol del pareggio erano anche pronte le sostituzioni di Sopi e Aslan mentre nel Bologna è uscito Kingsley in barella si tratterebbe di un infortunio serio il suo alla caviglia intanto Beto festeggia con i compagni ci sono anche le proteste da parte del Bologna ma l'arbitro indica il cerchio di metà campo e quindi all'ottantatresimo Udinese 1, Bologna 1, linea a Genova grazie grazie Grazie.